Sulla base delle incerte disposizioni governative alcune imprese del territorio nazionale stanno procedendo a scelte unilaterali in merito alla decisione dell'utilizzo del Green Pass nelle menze aziendali. Per questo le segreterie provinciali di FIM, FIOM e Wilm di Teramo chiedono che siano convocati i comitati Covid prima di procedere con scelte non condivise. Più che altro attualmente noi abbiamo un totale vuoto normativo rispetto al Green Pass, all'utilizzo del Green Pass nelle menze aziendali. C'è una FAQ che attualmente è stata emanata dal sito del Ministero ma che di fatto non ha alcun valore legislativo. Quello che noi chiediamo è un pronunciamento da parte del Ministero rispetto a un tema molto importante che riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. E dunque quello che noi chiediamo attualmente in forza di un incomprensibile vuoto normativo è di evitare che ci siano scelte unilaterali da parte delle aziende e di invece coinvolgere la RSU, quindi i rappresentanti sindacali e aziendali e le organizzazioni sindacali per poter gestire ed evitare qualsiasi tipo di conflitto. Gestire una situazione complicata così come lo abbiamo fatto garantendo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro durante la prima ondata istituendo dei comitati Covid che hanno consentito di poter continuare a lavorare e di continuare a lavorare in sicurezza. È impensabile che il Green Pass possa, in questo caso dentro le menze aziendali, possa diventare motivo di discriminazione perché le menze sono tutelate dalla contrattazione nazionale. Importante comunque la vaccinazione per tutelare la sicurezza dell'azienda e del lavoratore e di tutti i cittadini. Come ha detto lo stesso Landini, vaccinarsi è un dovere sociale e morale. Noi siamo per la vaccinazione di massa perché la riteniamo l'unico strumento per poter superare questa pandemia così lunga e così importante proprio per numero di morti e anche per un protarsi di tempo enorme. Riteniamo che ci debba essere un pronunciamento da parte del Governo e l'obbligatorietà in questo caso deve essere solo ed esclusivamente da parte del Governo. Non è possibile che, ripetiamo, un tema così importante possa essere demandato alla scelta unilaterale di quella o l'altra azienda.